Buonasera ai lettori di Vivi Casa Giove, come vedete siamo in compagnia di un giovanissimo cantante di nome Marco Spaggiari. Marco, io volevo chiederti una cosa, puoi descriverci brevemente la tua esperienza, definirei singolare, a livello musicale? Sì, guarda, io sono il cantante dei Controtempo, siamo una band prodotta da Beppe Carletti dei Nomadi, siamo usciti adesso con il nostro disco Noi Controtempo che presenteremo a Capodanno in Piazza Mantua proprio con loro. E niente, noi siamo una rock band emiliana, proprio dal cuore dell'Emilia dove un po' il rock nasce, il rock italiano nasce, a noi ci è sempre piaciuto questa ricerca sonora di una musica bella decisa che da sempre è stata qualcosa che vuole comunicare dei messaggi forti. Io ho questa fortuna di poter esprimere quello in cui credo attraverso le canzoni e mi piace farlo mettendo tutto me stesso senza maschere e quindi il rock è la modalità attraverso cui posso esprimere meglio la mia voglia di un mondo migliore. Ecco, quindi serate come quella di stasera mi piacciono molto perché sono stato invitato qui a Caserta dove tra l'altro mi sono trovato benissimo con persone che questo mondo migliore lottano per costruirlo ogni giorno. Una realtà quindi bellissima che mi ha permesso di incontrare tanta bella gente, tanti belli ragazzi e io sono molto contento quando le canzoni possono fare la cosa per cui a me interessa che nascono, cioè incrociare la vita vera alle persone che realmente ogni giorno cercano di fare del bene. Quindi mi piace molto questa cosa e anzi vi ringrazio per l'invito che è stato per noi anche un'occasione di portare in anteprima il disco nuovo per dire. Bene, in ultimo potresti rivolgere un saluto ai lettori di Vivi Casagiove? Certo, io saluto tantissimo i lettori di Vivi Casagiove, mi piacciono tanto queste realtà che nascono per comunicare quello che uno vuole dire e quindi io veramente vi saluto e continuate a seguire questa bella testata che venire a Caserta mi è servito anche per conoscerla e quindi vi seguirò anche io. Poi diciamo anche un'altra cosa che in effetti la musica è un linguaggio universale quindi unisce tutti, unisce tutti. Siamo ora in compagnia del Presidente dell'Azione Cattolica Diocesi di Caserta Antonio Milano e dell'assistente spirituale dell'Azione Cattolica Don Gianmichele Marotta. Antonio, questo è il primo anno come Presidente di Azione Cattolica. Puoi spiegarci gentilmente il senso e lo spirito dell'Azione Cattolica? Il senso e lo spirito io direi in una parola semplice è vivere, vivere alla luce degli ideali innanzitutto del Vangelo ma poi vivere come laici impegnati, laici impegnati sotto tutti i punti di vista e in tutti i campi. Quindi se pensiamo ai giovani, pensiamo alle scuole, pensiamo all'università, se pensiamo agli adulti, pensiamo anche nell'ambito sociale, nell'ambito familiare. L'Azione Cattolica ha il compito nella vita di tutti i giorni, e questo mi piace sottolinearlo con molta semplicità, di testimoniare quella luce, quella luce che proprio in questo Natale sta arrivando. Quindi il senso è quello di portare nella vita vissuta di tutti i giorni la luce di Gesù. Bene. Don Gianmichele, questa sera tanti giovani si sono ritrovati nella Cattedrale di Caserta per vivere questo momento altamente spirituale della veglia. Ma qual è il significato della veglia? Bene, allora diciamo che la veglia che è stata proposta rientra nel discorso che faceva prima Antonio, quello della formazione. La veglia è un momento di preghiera fondamentalmente, che viene proposto ai giovani in questo tempo di Natale, e per prepararci a vivere il Natale secondo il vero senso del Natale. E quindi un Dio che nasce, il Dio con noi, Emanuele, che nasce per noi per portare coraggio di ricominciare. Noi abbiamo proposto proprio il tema della veglia, Dio con noi, il coraggio di ricominciare insieme. Perché abbiamo proposto ai giovani questo messaggio chiaro, che Dio è per noi, è vicino, nasce ancora una volta, direi, per tutti quanti noi, in particolare per i giovani, per dare loro coraggio, speranza, soprattutto voglia di ricominciare, anche nella nostra terra, che spesso invece fa fatica a risorgere, ad avere messaggi di speranza. Invece abbiamo voluto proporre anche Marco Spaggiari, proprio per dare un ulteriore senso, un'ulteriore testimonianza, che è possibile con Dio, con Gesù, credere nei propri sogni, credere in quei talenti che il Signore ci affida, per poter rendere il mondo ancora più bello, ma soprattutto più evangelico, che è poi la pienezza di vita che il Signore ci propone. Bene. Antonio, da concittadino casagiovese puoi fare un saluto alla nostra testata? Volentieri, io vi seguo e guardo e pensavo sempre, dico chissà se mi capiterà, è capitato anche a me, di fare questo saluto. Io voglio salutarvi con una canzone che Marco questa sera ci ha cantato, si intitola Grazie. Voglio innanzitutto ringraziare voi, di Vivi Casa Giove, Enzo, un amico, Giacinto, tutti voi che ne fate parte, grazie per quello che fate in questa diffusione della cultura. E grazie ad ognuno di voi, soprattutto a voi giovani, per il dono che siete, che siete stati questa sera. Vivi Casa Giove sempre. Grazie. Don Gianmichele, invece, vuole fare un saluto? Un saluto, ma soprattutto un augurio, un augurio rivolto ai giovani, che sia un augurio di speranza per questo Natale, perché, ecco, sia la luce a guidarci e a dare senso alla nostra vita e anche ai nostri sogni. Auguri. Siamo ora in compagnia di, amo definirle, due colonne portanti dell'azione cattolica diocesana, poiché entrambi ricoprono il ruolo di vicepresidenti del Consiglio. Abbiamo Maria Cecere e Gianluca Zardo. Gianluca, senti, tu sono ormai tanti anni che fai parte dell'azione cattolica, ma cos'è che ancora oggi ti spinge a far parte di questa associazione? Allora, cosa mi spinge? È un incontro che si è andato evolvendo e maturando nel corso degli anni in azione cattolica. Mi piace ricordarlo, è partito tutto da un intermediario. Io ero piccolo, mia cugina, animatrice di ACR, mi ha preso di peso e un sabato mi ha portato all'ACR. Di lì c'è sempre stata la voglia di stare con i miei amici, giocando, divertendoci insieme. E poi questo incontro è andato maturando perché alla parte di azione poi si è affiancata la parte cattolica. Cioè questo incontro con il Signore che l'azione cattolica nel corso degli anni mi ha permesso di conoscere e approfondire sempre di più. Io ho sempre considerato l'azione cattolica come una palestra di vita, vivere il quotidiano alla luce del Vangelo. Non siamo santi, però come il Papa Francesco ci ha ricordato l'8 dicembre in occasione del nostro SIA l'azione cattolica, l'azione cattolica sia sempre scuola di santità. Allora per me la scuola cattolica è palestra e scuola di santità. Ci sforziamo di viverlo in prima persona perché al di là adesso del ruolo ogni laico ha un suo cammino di fede che è permanente, non ha mai fine. Lo viviamo quindi prima come associati. Poi dopo c'è la responsabilità in più che è quella della vicepresidenza diocesana. E lì c'è una cura particolare per le realtà parrocchiali che sono il fulcro ed il cuore della vita associativa. Allora il nostro SIA l'azione cattolica, questo incontro che è maturato negli anni, ora si traduce in una cura particolare per le varie realtà parrocchiali. Bene, Maria invece io volevo chiederti, allora la veglia di preghiera di stasera rientra in un percorso formativo a cui ogni singolo membro dell'azione cattolica è stato invitato a partecipare. Tu che fai parte del consiglio diocesano, dimmi un po' cosa state provando con questa esperienza dell'organizzazione, di questi incontri formativi, le emozioni che provate ogni volta che partecipano tutti questi giovani. Allora guarda, la scuola di formazione è stata innanzitutto pensata quasi fin da subito direi, no? perché poi di formarsi non si smette mai ed è stata pensata per i vari settori, quindi non solo per i giovani. Era come dici tu, aperta e quindi davvero si andava a ricercare la partecipazione, ma non solo di chi svolge già il ruolo di educatore, animatore e quant'altro, ma magari chiunque volesse accostarsi ad un'esperienza poi del genere e quindi prestare da l'alco servizio in chiesa. Noi che cosa proviamo? Guarda, personalmente posso dirti che è formazione anche per me. Noi non facciamo nient'altro che collaborare l'intero consiglio insieme, quindi è un lavoro unitario e si vede molto, nel senso che quando poi c'è collaborazione i risultati si vedono. Quello che provo è una carica forte, ma perché vedo che ci coinvolgiamo a vicenda, vedo che i giovani comunque vengono da noi, vengono a dirci ci è piaciuta questa cosa ma ci criticano anche, quindi sappiamo anche dove andare a migliorarci. E sicuramente la parte forte spirituale ci arriva sempre dalle parole del Vescovo, che parla in maniera semplice, però poi colpisce in una maniera perfetta, arriva diritto al cuore. Bene. Gianluca, anche tu, da concittadino casaggiovese, se gentilmente puoi fare un saluto affettuoso ai cari lettori di Vivi Casagiove. Allora, cari lettori di Vivi Casagiove, tra cui anche io, vi saluto, ci vediamo per Casagiove. Possiamo fare tanto per questa città e facciamolo, con coraggio facciamolo, perché stasera con Marco abbiamo imparato che i sogni non sono cose impossibili, ma cose che se ci crediamo veramente, con l'aiuto di tutti, veramente possiamo realizzarli. Grande Casagiove. Maria, tu invece sei di Capodrise, ti dico la sincera verità, un mio sogno nel cassetto è cercare di formare anche Vivi Capodrise, perché anche nella tua realtà associativa di azione cattolica ho notato persone valide per questo tipo di, diciamo tra virgolette, mestiere del pubblicista, del giornalista. Puoi fare anche tu un saluto ai cari lettori? Certo, cari lettori di Vivi Casagiove, un saluto, pure io sono lettrice, perché lui mi ha invitato a mettere mi piace alla pagina, no, però vi seguo, è vero. Niente, auguro a tutti voi un buon Natale, sempre in gamba.